Ma io ho tutte le scelte possibili e immaginabili Non c'è bisogno di cambiare le figure là, mettere la donna o l'uomo davanti ai bagni Ma è bellissimo che ci sia un terzo bagno per una scelta più inclusiva Noi dovremmo costruire qui dentro un terzo bagno Infatti David, tra le tante cose vergognose Vai da Tamburini a protestare, voglio il terzo bagno Qui non c'è, ma scriverò Tamburini assolutamente Scrivi a Tamburini, il sole 24 ore deve dare il buon esempio Ormai tanti istituti hanno fatto il terzo bagno Chiamatemi Tamburini, chiamatemi Tamburini e vediamo se vuole il terzo bagno C'è questa qua che vuole il terzo bagno Ci parla lui, vediamo, chiamiamo il direttore La signora Clizia De Rossi Molto da fare, però proviamo Va benissimo Questa è una cosa importante David, è una forma di civiltà Tante scuole si sono adattate, infatti è stato vergognoso che uno Aspetta un attimo, sentiamo se c'è il direttore Il direttore Ah Calma, calma Ecco Scusami direttore, come al solito sono sempre cruciani, c'è anche David Eccoci qua Eccoci qua C'è da fare direttore? No, no Sto passando le pagine Stai dormendo, no? Pensavo che stessi dormendo No, sta passando le pagine Stava vedendo le pagine Ah no, infatti Ottimo Scusami direttore, una brevissima cosa Qui c'è un transessuale da noi Una transessuale Una transessuale Che dice che non ci sono bagni per il terzo sesso qui nel building del Sole 24 E lei ritiene che è una cosa grave, che non ci sia un bagno per il terzo sesso Per me una gran minchiata potrebbe andare tranquillamente in un bagno per uomo o per donna Tu che dici? Intanto Sto passando il giornale Eh lo so, scusa E quindi mi fa piacere farvelo sapere Ah sì, è importante, sì Bene, grazie Francamente Sì Non ve lo so proprio dire Non lo sai Io ho un indirizzo abituale Sì, che è quello Che è quello dei bagni maschili Lì mi dirigo Non c'è dubbio Con assoluta determinazione E di conseguenza Non ho alzato lo sguardo Beh, direttore Ma domani posso impegnarmi a farlo No, no, interessante questo che tu Assoluto che tu ti dirigi con estrema determinazione Con assoluta È un virgolettato Con assoluta determinazione Quindi senza dubbio Senza dubbio Però secondo te è necessario mettere i bagni per il terzo Per il cosiddetto terzo sesso Se c'è spazio Oppure trattarsi di una battaglia ridicola Come sostengo io Su questo credo che tu possa prendere posizione Senza essere accusato di non essere inclusivo Ecco, questo dico La prendo senza sé E senza ma Sì Forse per me abolirei Le distinzioni Ah, addirittura Anzi Vi posso confessare un peccato Bravissimo Dimmi Che sei stato Vi posso confessare un peccato Spero di non essere messo alla berlina No, per carità Dici Quando mi dirigo con assoluta determinazione E invece non posso Diciamo così Raggiungere l'obiettivo Sì Io mi guardo intorno E se non sono osservato Non ho la minima esitazione A usare anche i bagni Di chi è portatore di handicap O perfino Quelli femminili Scusami questo però Stai confessando una cosa gravissima Questo lo faccio Non solo a 24 ore Ma anche dappertutto Perché per me Siamo tutti uguali Esatto Potremmo incontrarci al bando Direttore No, per carità No, per carità No, no Lì Questo lo posso Nel senso che Io sono aperto A tutte le esperienze Ma preferisco Non in bagno Francamente Ah, non per la location Però è aperto A rubare Anche per la sua azienda Anche la sua azienda Penso che sia quella Non trovo che la location Sia eccitante Ecco Allora mi inviti altrove No, però Così ne parliamo No, credo che È il direttore del sole Perché devi vivere No, credo che sia Anche come va Decisamente Verso il bagno Diciamo maschile Anche se poi Non disdegna Quello diciamo Femminile Causa urgenza Nei momenti Di estremo bisogno Uno si arrangia Come può Assolutamente Ultima cosa Mi sembra Che tu come Naturalmente Poi quando esco Mi guardo intorno Circuspetto Sperando di non essere Colto in flagrante Ma non per strada Direttore Per strada no Però vero direttore Per strada Non è possibile Sull'albero Quando c'è Ottimo Un gesto Di assoluta Maleducazione Ma manco di notte Manco di notte E anche di notte E quando trovo qualcuno Che lo fa Lo tiro per le orecchie Perché trovo Un gesto Di inciviltà Grande Scusami direttore Un'ultima cosa Quindi io quando vedo qualcuno Lo richiamo Anche in questo caso Senza se Senza ma È un gesto Di assoluta inciviltà Un importante Altro direttore Che ci sta ascoltando Non posso dire il nome Ma Dice anche lui Tamburini Veramente imbattibile Applausi Contestualmente poi In privato Dirò chi è In privato Però scusami un attimo Troppo buono Troppo buono Scusami Direttore scusa Per solo di non essere messo alla berlina Per questa mia piccola confessione No assolutamente Tra l'altro Non hai confessato Di essere Come dire Di essere aperto Ad altre esperienze sessuali Perché tu sei No l'ha detto L'ha detto Tu sei fierato Come no Non può ritrattare Direttore No no Io sono tradizionalista Lei devi provare Ancora non mi ha vista Scenda un attimo Per piacere C'è da fare il giornale Che scenda Scenda in studio Salgo io No questo possiamo confermare Direttore che lei È fieramente dell'azienda di Parenzo C'è eterosessuale Che sarebbe anche la mia Eh beh certo Parenzo sta crollando In questo punto di vista Sono Tradizionalista Tradizionalista Sì mi spiace Ma non voglio deludere nessuno Ma io Direttore la farò ricredere È Parenziano Lei è Parenziano Direttore È Parenziano Non so se sono Parenziano Certamente Diciamo così D'indirizzo unilaterale D'indirizzo unilaterale Bene Grazie direttore A presto Grazie Grazie molte Grazie a tutti Grazie Grazie davvero Sai che i camei Del direttore del Sole Le 24 ore sono diventati Una serie su Youtube Mi hanno messi insieme I camei I camei No ma è già su tutte le agenzie Di stampa internazionale Più importanti Io quando ho bisogno Mi reco ovunque Questo è il virgolettato Del direttore Ma io lo capisco Perché quando sei Lo capisco E dico anche Hai grande ragione Direttore Quando sei lì Hai lo stimo Che ti spinge Non è basta Lo stimo Che ti spinge Traduto io Richiamalo un attimo Chiedegli se alza la tavoletta Quello è fondamentale E se si lava le mani Facciamo una seconda puntata Facciamo una seconda puntata Facciamo una seconda puntata Per non dovermi fermare All'autogrill Parcheggiare Eccetera eccetera Piazzola Di sosta Di emergenza Fuori l'arnese Si fa tutto E poi si torna in auto Gaiardi Amico mio Beh diciamo che Il direttore Tamburini Ieri ha aperto Un grande squarcio E direi anche Un grande argomento Per i prossimi giorni Il grande argomento È molto semplice Se ti scappa Di andare a fare la pipì Se ti scappa Di pisciare Cosa fai? Cosa fai? La soluzione tamburiniana Caro Parenzo La soluzione Vai tamburini E quella La soluzione Vai tamburini È molto chiara Molto semplice Ed è Vai ovunque Ovviamente In un bagno Pubblico O non pubblico Ma anche quello Lui è un maschio Anche quello per le donne O addirittura Quello per i disabili Questo ha detto Il direttore del suono 24 ore Non è che l'ho detto io Lo ha detto Lo ha detto Per dire che Nei momenti di estrema Grandissima necessità Si può far ricorso A questo tipo di espediente Tirando sempre sulla tavoletta Facendo mille accortenze Quello non l'ha detto Quello non l'ha detto Sarà oggetto Di una successiva puntata Di una successiva puntata Sottotesto evidente Andrea da Monza Sottotesto evidente Andrea da Monza Vai Andrea Dimmi Pronto Dimmi Andrea Dimmi Devo ammettere Che a volte L'opzione bagno Portatori di handicap È la mia prima scelta Nonostante io non sia Un portatore di handicap Devo Lo ammetto Lo ammetto Faccio questo coming out Per colpa Del direttore Tamburini A proposito Dell'esimio direttore Del Sole 24 Nonché di Radio 24 L'altro giorno Ho posto un tema Che vorrei Come dire No Proporre All'attenzione Parenziana Che lo ha un po' trascurato Ma non solo Parenziana Di tutti voi Se Vi scappa Da andare in bagno Da pisciare Cosa fate Se non avete a disposizione In pochi metri Un bagno per maschi O per femmina A seconda del sesso Che avete Beh il direttore Tamburini Non ha dubbi Vai regia Riproponi Vai Vi posso confessare Un peccato Bravissimo Quando mi dirigo Con assoluta determinazione E invece Non posso Diciamo così Raggiungere l'obiettivo Io mi guardo intorno E se non sono osservato Non ho La minima esitazione A usare anche i bagni Di chi è portatore Di handicap O Perfino Quelli femminili Scusami Stai confessando Una cosa gravissima Questo Lo faccio Non solo Al sole 24 ore Ma anche Dappertutto Perché per me Siamo tutti uguali E mi sembra Mi sembra abbastanza chiaro Il tema posto Mi sembra un tema Fondamentale Di comportamento Cosa fare Cosa fare Secondo il direttore del sole 24 ore Uno se ne può fregare Diciamo del bagno Di appartenenza Che sia uomo O donna E dirigersi Verso qualsiasi Non lo so Non lo sai Questa è la realtà Io personalmente Non ho avuto mai L'urgenza di trovare Ogni tanto Utilizzo certamente Il bagno Per i disabili Non c'è dubbio Se c'è una lettera Che te lo consente Di fare Facciamolo Ma il tema È fondamentale Il tema è fondamentale Perché ti voglio dire questo Quella unica volta Che è capitato Anche a me Di andare Per urgenza Dentro un bagno Femminile Quando sono uscito Dal bagno femminile Le signore Che erano Nell'azio Mi hanno guardato E io mi sono sentito Un verme Io mi sono sentito Un verme E io mi sono sentito